Ora impariamo l'anglese con la professoressa Ciao ragazzi, in questo video vi raccomando sui vestiti I will show you flashcards, so learning will be easier And now let's get started T-shirt Shirt Seat shirt Luz Jumper Vest Dress Skirt Skirt Trousers Shirts Jeans Pijamas Raincoat Coat Jacket Enrock Enrock Shoes Boots Flip flops Slippers Slippers Sandals Tie Eye Belt Hat Hat Cap Globes Globes Scar Bat Rube Swimsuit And That's all Goodbye Bye Questo video è finito Però ricordatevi bambini Che se anche non potete andare a scuola Le vostre maestre vi pensano sempre Andrà tutto bene Se vi è piaciuto questo video mettete un like qui sotto iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video fatevi aiutare da mamma e papà ciao bambini